Sorprese e delusioni del campionato di Serie A secondo Antonio Benarrivo? Sorprese sicuramente il gran campionato che ha fatto la Fiorentina, la Juve si è affermata, è la squadra che gioca meglio tutto il campionato. Poi la cosa che mi è dispiaciuta, che era un dato che vedevamo oggi Pescara, è che il giorno di andata fa 20 punti e il giorno di torno fa 2. C'è uno squilibrio incredibile, peccato perché era una squadra che poteva salvarsi se avesse avuto lo stesso cammino del giorno di andata. E poi per non parlare dell'Inter, perché l'Inter aveva altre ambizioni, per cui una su tutte metto l'Inter come delusione. A proposito dell'Inter, ti aspetti che la società nera azzurra riparta da Stramaccioni oppure alla fine l'ipotesi Mazzari potrebbe prendere corpo? Tutto può succedere, io credo che Stramaccioni abbia avuto anche delle sicurezze da parte della società, però si è liberato questo posto a Napoli. Non so cosa succederà, è chiaro, però credo che l'Inter abbia bisogno di una ricostruzione. Peccato tre anni fa vederla in cima al mondo, oggi vederla neanche partecipare in Europa. Quindi diciamo che questo deve fare un po' riflettere il sette societario dell'Inter. Mazzari ha dato l'addio al Napoli, il Napoli si trova nella necessità di scegliere Benitez, potrebbe essere un'ipotesi concreta o un'ipotesi giusta? Può essere anche concreta e giusta se l'intelagliatura importante della squadra rimane. Nel momento in cui una squadra del genere ti togli due elementi e i due elementi diventano fondamentali in quel contesto di squadra, qualsiasi allenatore che viene può trovare delle difficoltà. Bisogna capire la società che tipo di programmi ha per la stagione futura. È chiaro che se ti mandi via, vendi. Uno come Cavani ti ha fatto 29 gol, 29 gol vuol dire tanti punti poi in classifica. Devi trovare un altro che te ne faccia, non dico 29, ma che arrivi almeno ai 20 di gol. Credo che sarà molto difficile. Bisogna capire i programmi che hanno la società del Napoli. Benitez secondo te può essere rimasto scottato dal campionato italiano oppure è stata un'esperienza soltanto legata al fatto che l'Inter arrivava dopo tutti quei successi che aveva ottenuto e quindi era difficile ripartire? Era molto difficile ripartire, non tenendo conto del fatto che qualche elemento gli era importante. Era partito, era andato a giocare da qualche altra parte. Però quando una società chiama un allenatore, l'allenatore inizia a vedere cosa ha nella sua rosa per poi attuare la propria idea, il proprio gioco e trasmetterla alla squadra. Quella era una squadra che non percepiva quello che Benitez sicuramente gli chiedeva e poi è successo, come tutti sappiamo, quello che è successo e che è stato esonorato. La tua sensazione è che Allegri rimarrà al Milan oppure ci sarà un cambio clamoroso? Secondo me è 100% che rimane al Milan. Un altro anno di contratto e non credo che Allegri sia stato lì tre anni e non credo che abbia fatto malissimo. Visto anche come era partito quest'anno, i giocatori soprattutto che gli hanno venduto diciamo che ha fatto un giro di ritorno quasi da prima in classifica. Per cui io credo che Allegri abbia fatto tre ottime stagioni vincendo anche uno scudetto con il Milan e quest'anno avendo avuto una rosa molto giovane è stato bravo a valorizzare cioè Deciglio chi lo conosceva, parliamoci chiaro. Per questo lui è stato bravo al proprio valore umano della squadra, a esaltarlo ai massimi livelli e credo che abbia fatto un ottimo lavoro. Quindi oggi discutere uno come Allegri al Milan mi sembra un po' difficile che tutto possa avvenire. Ti assolutavi di più dal tuo Parma? No, assolutamente. Parma era il campionato doveva fare, ha fatto 49 punti, non sono pochissimi, sicuramente lontani dall'Europa però è una squadra come dire che ha fatto un egregio campionato, poi una società che ha ambizioni e chissà in futuro non la rivedremo in Europa. In futuro ti vedremo sulla panchina del Parma? No, io sono qui a fare un corso, per me diventa un corso di aggiornamento perché sono lontano dal calcio da nove anni e quindi lo prendo prima come corso di aggiornamento se poi dovesse arrivare qualcosa di importante la prenderemo sicuramente in considerazione.